Musica Benvenuti al TG10, l'apertura dal telegiornale oggi la dedichiamo alla pagina sindacale riferendovi della mobilitazione dei lavoratori su tutto il territorio nazionale con 8 ore di sciopero e con 2 ore di assemblea sui posti di lavoro in merito al rinnovo del contratto di lavoro Anche Gela ha aderito Mobilitazione dei lavoratori su tutto il territorio nazionale con 8 ore di sciopero e con 2 ore di assemblea sui posti di lavoro per sensibilizzare e coinvolgere i lavoratori a sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali volte ad un rapido e positivo rinnovo del contratto di lavoro Anche a Gela, le segretarie di Filctem, Cigelle, Femca Cisle e Wiltequil hanno promosso incontri con i lavoratori in merito alla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Appuntamento questa mattina nella saletta sindacale dello stabilimento Su questa rivendicazione noi abbiamo posto il fatto salaliare che su quello che era la nostra richiesta è stato dimezzato Si è fermi pure per quanto riguarda il welfare su quella che è la prevedenza e quant'altro e poi perché hanno rimodulato in maniera drastica il sistema classificatorio Noi questa giornata di assemblea che stiamo facendo la facciamo in virtù a una messa in sicurezza degli impianti e quindi su quello che è il fermo degli impianti di Enimed che è pari al 40% dei pozzi e per quanto riguarda Gris Stream è pure una giornata di fermo plasmata in tre giorni in maniera tale che anche il lavoratore che ci mette di tasca oggi la giornata di sciopero anche l'Eni deve partecipare alla perdita di produzione La partecipazione nello sciopero è stata massiccia da parte dei lavoratori perché nel momento in cui si va a toccare quella che è la questione del potere salariale dei lavoratori La questione dei diritti acquisiti e nello stesso tempo anche la possibilità di non avere un contratto nel breve scadenza, questo ha fatto sì che i lavoratori hanno partecipato in grande massa Non c'è dubbio che come industria ne deve prendere atto di questo malcontento dei lavoratori non si può con un colpo di spugna cangellare tantissimi dei diritti conquistati nel tempo Ecco perché le motivazioni di uno sciopero forte, ecco perché abbiamo fatto sì che le attività produttive fossero penalizzate Ecco perché nella giornata di oggi vorremmo mantare e sicuramente l'abbiamo fatto un messaggio forte a Commindustria Stanno venendo meno i diritti dei lavoratori sotto l'aspetto normativo e sotto l'aspetto del ritorno economico Noi chiediamo a gran voce che questi elementi fondamentali vengano rispettati e far sì che i lavoratori quando meno riescono ad avere quel potere d'acquisto che permette di poter continuare a vivere in maniera più serena e tranquilla Cambiamo argomento e parliamo delle elezioni di secondo grado per i liberi consorsi e le città metropolitane rinviate al prossimo 26 febbraio sulla vicenda Oggi interviene il Comitato Gelensis Populus Il rinvio sicuramente non risolve quella che è la mancata annessione territoriale di Gele e delle altre comunità alla città metropolitana di Catania Per cui questo rinvio al 26 febbraio, se non consente di trovare soluzione a questa problematica della mancata annessione e quindi del completamento dell'articolo 44 della legge 15 del 2015, ripresenterà nuovamente il medesimo problema Possiamo definirlo un vero e proprio pasticcio? È un pasticcione, non un vero e proprio pasticcio È ancora peggio che un pasticcio L'unica cosa che io mi auguro e auspico e in questo voglio dire sollecito un intervento pubblico da parte del sindaco è di capire in questo frattempo cosa l'amministrazione ha intenzione di fare Perché questo tempo può essere utilizzato come opportunità però questa volta come opportunità fattiva e valida per trovare una soluzione che poi la soluzione sia giudiziaria o sia politica lo scelga in maniera chiara l'amministrazione Però il sindaco di Gela ha scritto al governatore della Sicilia, Crocetta ha scritto all'Assemblea regionale siciliana sottolineando che non si può stravolgere la volontà popolare manifestata dal gelese in merito all'adesione di Gela a Catania Sì, questo è il punto di partenza ed è un punto di partenza che ormai è noto ai più Noi vorremmo capire dal sindaco dopo aver preso atto di ciò cosa intende fare effettivamente vogliamo chiedere al sindaco se vuole approfittare di questo periodo fino al 26 febbraio per mettere in campo una strategia, un'azione sappiamo della nomina di una serie di professionisti avevamo avuto tempo fa la nomina di un professionista locale a cui è seguito meno di 20 giorni fa la nomina di uno stimatissimo professionista un professore costituzionalista ci vuole dire ad oggi che cosa si è fatto dal momento che l'incarico riguardava anche la sospensione l'impugnazione delle elezioni oggi le elezioni non si tengono questo professionista il mandato gli è stato rideterminato che contenuto ha questo mandato ad oggi il sindaco mi pare che non dica assolutamente nulla il vostro sospetto è che il sindaco di Gela possa candidarsi alla presidenza della libera consorzio di Caltanissetta ma poco prima della sospensione del rinvio della sospensione del rinvio delle elezioni mi pare che le voci fossero fossero assolutamente insistenti in questo senso e mi pare che il sindaco non abbia neanche smentito una consulta giovanile come strumento di raccordo tra le istituzioni locali e la popolazione giovanile oltre che come efficace metodo per avvicinare i giovani cittadini agli avvenimenti politici che caratterizzano la città la proposta è stata presentata al Consiglio Comunale di Gela dalla associazione Fronte Giovanile Movimento Giovanile di Destra in Movimento indirizzato all'assessore alle politiche sociali e al presidente del Consiglio Comunale ha dichiarato il dirigente di Destra in Movimento Giuseppe Catania il progetto prevede la costituzione di una consulta tramite delibera del Consiglio Comunale consulta che andrebbe a porsi come organo consultivo nei confronti dell'assise civica alla quale presenterebbe proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili oltre ad esprimere un parere su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani l'obiettivo che il fronte giovanile si prefigge è quello di fornire ai giovani strumenti per il dialogo con le istituzioni il progetto prevede il coinvolgimento delle rappresentanze di tutti gli istituti di scuola secondaria di secondo grado ed associazioni giovanili locali elevandoli ad un ruolo più attivo nella vita politica locale oltre a poter promuovere varie iniziative inerenti alle tematiche giovanili della città tra cui bullismo disagio droga sport aggregazione e coesione sociale rinasce a Gela dopo 11 anni il comitato promotore dei giovani democratici nei locali di Piazza Martire della Libertà erano presenti il segretario provinciale giovani democratici Marco Andaloro e il responsabile nazionale mezzogiorno giovani democratici Elisa Carbone finalmente torniamo a Gela dopo tanti anni per creare e costituire quello che sarà un comitato promotore che si occuperà di coinvolgere i giovani della città e di coinvolgere all'interno dei giovani democratici ovvero l'associazione giovanile del partito democratico questo è stato possibile oggi grazie anche all'impegno del segretario cittadino Peppe Di Cristina e quindi siamo contenti veramente di ritornare oggi a Gela per questa importante occasione vogliamo che la giovanile torni a essere protagonista delle scelte del territorio nisseno e della città di Gela è un bacino di utenza notevole e speriamo che si possano realizzare numerose iniziative e progetti per il bene di Gela e di tutta la provincia sono tanti i temi che prenderemo in considerazione come per esempio quelli che sono i problemi inerenti agli studenti universitari ai giovani laboratori e altri temi riguardanti la città che comunque la politica sembra essere lontana continuiamo con grande continueremo con grande partecipazione riportiamo il comitato dei giovani democratici a Gela fatto di giovani che vogliono guardare al futuro e guardare tutte le problematiche che Gela sta attraversando il futuro di noi giovani doveva essere un inizio per una svolta futura a cui dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e andare avanti una giornata straordinaria ed una vittoria del partito democratico di Gela la definita del segretario cittadino del PD Peppe Di Cristina finalmente abbiamo concretizzato un progetto che c'era in città da tempo perché ritengo che i giovani siano fondamentali per poter affrontare determinate problematiche e soprattutto per guardare a quella parte della società gelese che deve essere attenzionata i giovani e il lavoro per i giovani quindi ci muoveremo in questa direzione e faccio i miei auguri a questo neocostituito gruppo dei giovani democratici a Gela Entro il prossimo 30 novembre al Comune di Gela le famiglie che versano in particolari condizioni economiche possono presentare una richiesta per accedere al contributo per fornitura idrica a favore delle cosiddette utenze deboli lo ha reso noto l'assessore ai servizi sociali Licia Bela hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari che hanno fino a tre figli a carico con una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 7500 euro o le famiglie con oltre tre figli a carico ed una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 20.000 euro sono esclusi dal contributo i morosi che non provvedano a regolarizzare la propria posizione o le utenze che già osufriscono della tariffa agevolata riservata ai pensionati modelli e modalità di presentazione dell'istanza sono disponibili negli uffici del segretario sociale in Viale Mediterraneo o sul sito internet del comune di Gela primo giorno ieri del servizio di defezione scolastica in città abbiamo superato i problemi che abbiamo trovato al nostro insegnamento e che l'anno scorso non ci ha consentito di essere tempestivi nel fornire il servizio però io oggi sono qui più nella qualità di assaggiatore perché mi è sembrato giusto constatare la qualità del cibo che viene dato ai nostri ragazzi devo dire che l'ho trovato ottimo la cucina è estremamente pulita e gli operatori molto attenti con una notevole passione nel loro lavoro ed è quel quel valore in più che consente di dare una ragione garanzia di tutela e qualità per i cibi dei nostri ragazzi è un servizio però importante per molte famiglie è un servizio importante anche per poter consentire ai nostri giovani e ai ragazzi di poter crescere in armonia in un ambiente che è quello scolastico che sta diventando sempre più un luogo di aggregazione non solo per le nozioni ma una scuola di vita dove bisogna relazionarsi e il momento del pasto è uno di quei momenti fondamentali della vita in cui si riesce a relazionare meglio abbiamo scelto così casualmente di venire a visitare questa scuola perché c'è un centro cottura e viene c'è anche una bella sala dove fare refezione per noi è importante monitorare la qualità dei passi vedere che tutto fosse in ordine sin dal primo giorno e così abbiamo potuto constatare con piacere tra pochi bambini si accomoderanno a tavola usufruiranno del primo passo il menù che oggi prevede minestrone e salsicce di pollo con patate a forno abbiamo visionato che tutto fosse in regola che tutto quello che riguardasse i bambini affetti a celiechia fosse effettivamente suddiviso rispetto alle cotture e anche alla disposizione delle derate alimentari quindi sembra filare tutto per il verso giusto quindi non posso che essere compiaciuta di quello che effettivamente avviene oggi nelle scuole gelesi speriamo di fare sempre meglio e il prossimo anno magari perché no di riuscire a battere il record che è stato effettivamente effettuato quest'anno con la partenza d'ottobre Ottobre lo ricordiamo è il mese della prevenzione per il tumore al seno tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni possono recarsi all'ospedale di Gela il martedì giovedì e venerdì dalle 15 a 30 alle 17 a 30 per sottoporsi alla mammografia gratuita fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi venerdì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici l'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5 anche nei giorni di domenica martedì e giovedì un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto rieccoci seconda parte del telegiornale inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'unitre di Gela presieduta da Angela Scaglione Altamore si darà sabato 5 novembre alle 17.30 presso l'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela saranno presenti tra gli altri Aldo Cibona il dirigente scolastico Giacchino Pelitteri e l'assessore comunale Francesco Salinitro e ora parliamo di sport calcio dopo il pareggio di domenica scorsa in casa con la Palmese il Gela ha un solo obiettivo da conseguire vincere contro la Frattese in trasferta vediamo ricominciare a vincere partendo da domenica prossima in Campania contro la Frattese squadra che accusa tre punti di ritardo dai gelesi è l'obiettivo dei ragazzi allenati dal tecnico Pietro Infantino dopo il pari senza gol al Presti contro la Palmese non si devono più lasciare punti per strada davanti al pubblico amico nelle ultime riuscite i biancazzurri hanno ottenuto solo un punto pochissimo è in trasferta invece che il club di Venezia riesce ad esprimere il meglio di sé una metamorfosi vera e propria ma cosa accade l'abbiamo chiesto a Fabio Campanaro sono le squadre che vengono qui ringhiuse per cercare di portarsi quel benedetto punto e fino ad adesso ci stanno riuscendo alcuni addirittura raccogliendo più di quando meritavano e spero che siano solamente degli episodi isolati che già dalla prossima in casa possiamo ritornare a vincere davanti al nostro pubblico ma prima c'è una partita abbastanza importante e delicata quella di domenica fratta dove dobbiamo rimanere concentrati per cercare di portare un buon risultato a casa finora squadra in trasferta in battuta eh sì la qualità dei nostri giocatori ci permette di poter sfruttare gli spazi che ci lasciano le squadre quando andiamo in trasferta speriamo domenica di poter continuare questo trend cosa temete della frattese è una buona squadra già l'anno scorso ha fatto un gran gambionato si è giocata la promozione fino alle ultime giornate la squadra non è non è stata cambiata in grosso modo quindi diciamo è una combagine che gioca si conosce gioca bene dobbiamo dare il massimo di noi stessi per cercare di portare un buon risultato a casa quando si parla di un buon risultato si parla di vittoria certo noi dobbiamo per la squadra per il blasone che il gelacalcio dobbiamo cercare almeno dobbiamo giocare per i tre punti poi il risultato quello che viene ci prendiamo speriamo sempre che sia il massimo questa squadra secondo te conoscendo proprio i giocatori dove può arrivare noi quest'anno ci siamo posti degli obiettivi ben precisi giochiamo partita dopo partita diciamo che fino a questo momento il bilancio è più che positivo speriamo sempre di migliorarci perché non possiamo mai accontentarci o rilassarci il campionato è lungo e credo che possiamo prenderci delle belle soddisfazioni Donna è il lavoro quando la leadership crea innovazione e cambiamento è il tema del convegno organizzato dal comitato di presidenza distrittuale FIDAPA che si terrà domani alle 10 nell'aula magna del riccio scientifico Leonardo da Vinci di Niscemi in via Carlo Alberto dalla Chiesa saranno presenti tra gli altri il presidente Rosa Maria la scuola e le rappresentanti di Gela Angela Incardona e il presidente Rita Salvo avvicinare i più piccoli allo sport e far conoscere ai loro familiari la carta dei doveri del genitore nello sport di recente varata dal consiglio internazionale del Panathlon con questo intento ha fatto tappa in città il Road Tour della Sicilia il camper proveniente da Palermo prima tappa dell'intenso programma messo in campo dai club dell'area 9 Sicilia del distretto Italia del Panathlon International si è fermato nello spiazzale della piazzetta Falcone Borsellino dove ad attenderlo c'era il presidente Marcello Tornatore e gli altri soci del club nisseno una mattinata all'insegna dell'allegria per gli alunni delle scuole di primo e secondo grado abbiamo già girato per tutta l'Italia siamo andati anche in Europa in Ligtestan in Belgio in Francia un po' ovunque questa iniziativa oltre a spiegare ai genitori e agli insegnanti la carta dei doveri dei genitori nello sport si occupa di cercare di avvicinare i ragazzini allo sport noi nel nostro piccolo cerchiamo di farli giocare a basket a calcio a mini golf proprio per farli entrare nel meccanismo e magari fargli piacere lo sport e soprattutto farli divertire è un successo enorme soprattutto qua in Sicilia ogni giorno ci stupiamo dei ragazzi che incontriamo il numero di ragazzi che incontriamo ci sono dei numeri pazzeschi che nelle altre tappe in Italia devo essere sincero non avevamo mai trovato il Panatron International in occasione del 65esimo anniversario della sua fondazione ha messo in campo in tutta Italia per diffondere quelli che sono i principi etici dello sport ai giovani oggi stiamo vedendo proprio i giovani si stanno divertendo tantissimo socializzano tra i loro stanno facendo vero sport ma soprattutto per sensibilizzare i genitori a un'adequazione eticamente sportiva dei propri figli e quindi inculcare per quelli che sono i principi fondamentali dello sport e far fare loro le scelte migliori indipendentemente dalla propria volontà di genitore per una crescita sana del giovane perché poi attraverso lo sport i ragazzi si formano anche come uomini oltre che attraverso la scuola la famiglia eccetera quindi lo sport è un ingrediente essenziale per la formazione di un uomo la pagina dello spettacolo appuntamento col cinema all'antitodo di Gela e in proiezione il film a lettere da Berlino sono due gli orari 19.30 e 21.30 all'antitodo è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre l'abbonamento intero costa 70 euro 55 euro ridotto per i giovani per informazioni ci sono tre numeri telefonici 338-7143-293 330 225442 o 0933-822707 è nuova stagione teatrale anche all'eschilo dall'8 novembre in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione per informazioni bisogna recarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 ci sono due numeri telefonici 0933 91-1892 e 345-5880 580 il prezzo dell'abbonamento lo ricordiamo è di 90 euro abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni per averci seguito per averci seguito la tua